Pasquale Mazzi è il sindaco di Castellamonte, nota nel mondo per le ceramiche, meravigliose ceramiche, però qui è rientrato in un progetto di outdoor, di turismo all'aperto, come mai? Beh, intanto siamo rientrati perché comunque Castellamonte è una città oltre che della ceramica, è anche una città verde, una città di montagna, noi abbiamo le nostre frazioni alte, abbiamo ben quattro frazioni sulla parte alta della città, siamo parte dell'Unione Montana, quindi anche noi abbiamo la nostra fetta di outdoor, però noi siamo entrati dentro perché crediamo in questo progetto, crediamo in un progetto fatto, composto da il maggior numero possibile di comuni, perché siamo convinti che da soli non si vada da nessuna parte, pertanto lo scopo principale, il motivo principale per cui noi siamo entrati è questo qua, assieme si lavora, si lavora meglio e credo che si riesca anche meglio a portare quello che è uno dei nostri obiettivi, cioè il turismo, la gente da fuori.